Siamo qui con il professor Piercarlo Sarsi-Puttini, professore ordinario di reumatologia all'Università Statale di Milano e direttore dell'Unità Operativa Complessa di Reumatologia all'IRCCS Ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio di Milano. Che cos'è l'artrite psoriasica? È una patologia sistemica autoimmune che ha un'area ovviamente articolare e dermatologica che traspare dal nome, però ha anche un'area metabolica e di sintomi di accompagnamento che è molto importante per chi ovviamente si occupa anche di medicina interna. Ricordiamoci che questi pazienti oltre alla psoriasica e all'artrite hanno un aumentato rischio cardiovascolare perché possono avere una terosclerosi accelerata che può ovviamente interessare il cuore e i vasi, possono avere una sindrome metabolica di accompagnamento per cui per uricemia, alterazione della glicemia, assetto metabolico alterato dei lipidi, ma possono avere anche un quadro ad esempio di interessamento epatico con un incremento di acidi grassi non esterificati che aumenta il rischio di fibrosi, di cirrosi, per cui è una malattia complessa nella sua attenzione sia di tipo articolare e cutaneo ma anche di tipo metabolico. Perché è fondamentale diagnosticarla tempestivamente? Beh ovviamente come tutte le diagnosi delle patologie anche croniche, la diagnosi precoce ci consente una strategia terapeutica precoce, ci consente di capire quali sono i rischi in quel determinato paziente e quali sono i farmaci che possiamo usare al meglio. Ricordiamoci che la psoriasi, soprattutto l'aspetto articolare, è molto eterogeneo e nell'eterogenicità ovviamente dobbiamo stare molto attenti a raccogliere la storia sia del paziente che vediamo a letto e che visitiamo, ma sia quello che è accaduto nel passato, perché a volte alcune di queste manifestazioni vanno in remissione ma contano nel discorso della generale strategia terapeutica. Per cui questa è una malattia, una sindrome, per la quale ricorre una certa attenzione, così come abbiamo l'attenzione a volte a cercare le lesioni di psoriasi più nascoste, come nell'ombelico, nella patina retroarticolare o in testa, perché a volte il paziente sa che ha magari qualcosa in testa, pensare alla forfora invece ha la psoriasi, per cui è molto importante riuscire ad aiutare il paziente ad arrivare realmente al quadro che realmente ha. Quanto è importante informare su questa malattia? Ormai tutto quello che noi facciamo è semplicemente di parlare con il paziente e di adottare quello che noi chiamiamo, soprattutto nel paziente cronico, self-management, cioè una pezzi di autogestione insieme a noi nel trattamento. Per cui dobbiamo informare su quelli che sono gli aspetti clinici, su quelli che sono gli aspetti terapeutici, cercare di studiare un percorso con il paziente che sia soddisfacente e che ci consenta una migliore aderenza possibile al trattamento per raggiungere gli obiettivi che di solito sono o la remissione clinica o la bassa attività di malattia insieme. La medicina ormai si fa insieme e si va con la cultura e con l'educazione della classe medica ma anche dei pazienti senza i quali non si riesce a essere così efficaci ed efficienti.